Martedì 29 settembre in Consiglio Comunale è stato approvato un bilancio che non soddisfa per niente le esigenze del territorio. A farlo presente attraverso una nota stampa il consigliere di minoranza del comune di Castellabate Luigi Maurano. Un bilancio pieno di criticità, debiti e disavanzi economici nati da scelte politiche sbagliate fatte in questi anni da parte della maggioranza consigliare, fa sapere Maurano. Ai settori nevralgici per lo sviluppo e la crescita del territorio vengono destinate sempre poche risorse. Mentre ditte e fornitori sono costretti ad aspettare mesi e anni per essere pagati dal comune, le spese per gli uffici e le indennità dell'aggiunta vengono erogate puntualmente. Un bilancio poi che prevede di destinare zero euro all'agricoltura, zero euro alla tutela e rivalorizzazione delle risorse idriche, zero euro per la pesca, per le famiglie, per gli anziani, per i disabili. Assistiamo a un bilancio redatto quasi esclusivamente per pagare interessi sui prestiti, per pagare i debiti e i piani di rientro e per coprire, fino al 2045, disavanzi economici. Un bilancio, continuo a Maurano, dove la pressione fiscale aumenta e i cittadini sono costretti a scegliere se pagare le tasse o mettere il piatto a tavola. Per queste ragioni quello approvato martedì scorso è un bilancio che non porta sviluppo, crescita e innovazione per il territorio. C'è bisogno di destinare in maniera adeguata alle risorse. Senza ombra di dubbio i cittadini del comune di Castellabate meritano di più, conclude il consigliere Luigi Maurano.